Il Pranko Chirici sono arrivati a Moulinat, a Manazulain, in via Castello e al vento di giamba dal 1933. E ti è a Manazulain quando ero in Provenza e in Boulogna? No, no, dal 1933. Purtroppo era una bella stata moda. Perché purtroppo? Perché il mio cuore è bolognese. Sì, che qui in Castello senti Bolognese o Moulinese? Beh, la Manazulain è in Bolognese. Perché Marcos quando ero in Serie A andava a dobbiamo andare a Boulogna e doveva passare da Castello e gli avevano, meno o meno, gli avevano pescato i Moulinese quando passavano da Castello. per cui sì, il cuore dei Castellfranchesi è bolognese. Guarda, ha fatto un campionato che il mondo ha fatto sette gol a Boulogna. quando ero in Tornelli andava, ero in il Caffè Grande, no? E ora era in un cerco. Se fu fuori da ogni strano, un strano del cerco, avevano messo fuori sette gol a Bologna. E poi tutte le cose che avevano. E qui il castello? Sei in Mugnese o in Bolognese? Qui a Pignasme, taggando Damian Vaud al fiole Fausto, perché mi ero un fratello, che siamo Fausto, in Bolognese. E qui si tratta di altri, si tratta di altri, poesi come il mio, al mille più da Manzulè, perché in questo castello hanno qualche parola diversa. Per esempio, ti ricordo qui? Per esempio, non ricordo di me, io ero da un chilometro da qui, e qui, per dire, non c'è una fontana, qui c'è una fontana, campana, qui c'è una fontana. In un castello, in un paese? In un paese. In un paese. C'è una differenza, la guerra, no, questo è un po' di più. Questo è un po' di più. Sì che, tu sei a Manzulè, un po' di stare a Castello per lavorare? No, no, non ho a Manzulè, nel mulinato, io ero una monna, nel mulinato nel 19-38 e avevo un mulino e ora ho a Manzulè perciò c'è un po' di più. Oltre al mulinato. Se le qualche, dopo la strada, la finesse la Cardagna che arriva al mulino d'Olo? No, no. Molino d'Olo è il quale di me l'era. Il quale di me l'era? Quella di via miglia. E ora dopo ero in Castell? e dopo il segno di questo è perché dal 1943 la proprietaria del Moleni era una certa barbiera ad Alcisa. Mi pare di rendere soldi, mi soffrono il rendere soldi, forse era finito anche il contratto, e l'affittura del Moleni era un'altra barbiera, per cui da fine della guerra per fortuna entrò il barco e venivano in Castello dal 1943. Poi ho fatto la scuola media qui in Castello, ho fatto due classi a Boulogna, e poi ho fatto la scuola a Boulogna al solito. Andavi a scuola a Boulogna, di Monde andavi a scuola a Boulogna, si è presa tutto, però... A Modena no, insomma. Mi pare di rendere a Modena, io la seguente della geometra dove andavo a Modena. Stai in Castello una volta, il compagno stai in Castello adesso, era preciso, oppure è cambiato quello in Castello? No, è cambiato cosa, insomma. La gente, non so perché, andavamo al bar e vivivano in mezzo alla gente, per cui... andavamo a Boulogna, per cui andavamo a lavorare. Poi andavamo a lavorare. Alla sera, dove andavamo a lavorare, andavamo a Boulogna, andavamo a Boulogna, andavamo a Boulogna, stavano fino a mezzo, a mezzo, a mezzo, a mezzo... e il Castelfranco, che aveva una vettura anche notturna, ecco. Adesso... Adesso abbiamo... Sarei attrati che abbiamo fatto gli accorgimenti che... che la gente viene a fare un po' più lunghe, ma abbiamo passato anche... che la sera la castella era morta. e perché che la vi è meglio in mezzo... e... La gente stava in casa, stava in casa, ecco. Il bar... si erano, si erano, si erano. Adesso questo che è il bar qui, è aperto la sera. E poi fanno la maniera, e si vengono fuori per maniera, la gente, aperitivo... e anche la gente, ecco. per dire, per continuare la storia del bar... la c'è... la c'è... finire l'anestero... dal Moner, mi pare che la c'è anche un po' al bar qui, quindi questo fino al 1969. Sì, stupendo perché lavoravano troppo... anche perché poi... non si è conto... dal 1955, che è molto più mezzo. Mi stia in strada, e... io dorme anche un po' a lavorare... e era dura, insomma. Allora... avevo vinto il bar... e poi... mi moglieva che piaceva il scherp, andava sempre a comprare il scherp, anche a calzorire, e al fianco al bar, al proprietario, al G. Marta, mi sono stupo per vendere il scherp. e poi... potremmo comprare la bottiglia... fatto sta... vanno al bar... vanno al bar... in zona... e si andava a fare il ferro... in l'olio... che frate... si sbarcava sulla luna... in caloio... erano in ferie... mentre andavano sulla luna... e... in settembre... erano iniziati a fare il scherp, dal 1969... e erano iniziati a fare il 1905... fino al 2003... me e la Marta... dal 1969 al 2003... erano iniziati a fare il scherp. E l'olio è un pezzo, eh? perché... da anni... che si sbarmevano... la Marta... era morta... ma... si sbarmevano per la stessa... Marta... al tuo scherp... avevano la roba... la roba buona... avevano tutte... la roba comoda... di classe... e comoda... e... Marta... al tuo scherp... non avevano troppo... perché... dovevano girare bene... e così... Il solito, tutta roba... hai comprato la roba italiana... fatta... Noi... non avevano bisogno di magazzini... a fare il portamento al scherp... una stazione... a parte l'altra... a comprare una scherp... cioè... per dire... in... in Marta... se fosse... che avevano bisogno... in... in Avrile... in Marta... comprare una scherp... per l'invera... per anni fa... io presentando... i campioneri... accendere una scherp... e l'era... difficile... perché... per... per... comprare bene... i personaggi... che stanno... che era... che era... che stanno... quando vanno al bar... che stanno... viva... però... descrivere la scherp... magari... è... un po' difficile... E ne hai mai fatto il bot... in del bar? No... una volta... ho contato un portico... che era anche... allora... a gira... una in Baragos... che non aveva... in un bar... al nostro... anche in Baragos... io andavo... in la giustaria... e poi... dato che... al nostro bar... che aveva... mi aveva... la scatola... tutto il nord... perché... si fermava di camionesta... un po' che... in Baragos... la riveva... dal bar... la scatola... che rompeva... anche la scatola... e... che... la nord... ha rompito la scatola... un bel poco... mi pare... allora... le portate... le portate... le portate... le fianche al bar... che non portate... che non andranno... e... che... che... poi... niente... che... che... le portate... le portate... in Baragos... lì erano... lì erano... andate... alla mattina... lì erano... tutta un'altra persona... fatto sta che... alla mattina... mi pare di parlare... perché... la venite... avevo... il tuo... che andava... a me... che andava... o mio fratello... insomma... ma... non andavano... e che avevamo questi uomini, che avevamo detto che avevamo detto che insomma siamo capire stanotte e ho detto che avevamo detto che avevamo detto, che avevamo detto che avevo detto. Allora, l'ha detto sì. Mi ha detto talmente, proprio a partire il petto di Rameon, forse la prima volta che l'ha dimostrato una persona, mi arriva talmente, talmente, che... Sì, la verità è cambiata da me a solo in castello, cioè l'Atlantico alla Siria andavamo fuori una volta, dopo un certo momento, un po' parlando la televisione, si stavano qui, si stavano qui. E la partita dal Turtley, secondo te, non è proprio in castello al Turtley? Sì, la leggenda dell'italiano, la disaxè, ecco. Per cui, molto l'ha riletta, no? Perché io ero un'oste all'Osteria Corona che ho visitato questa dama in una stanza mentre la slaveva andò a spiegare per il burro da Cevadora e... dell'ombrego, ecco. Allora... l'ho per... 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 magari... fare un... un regalo a questa dama che ha fatto la pasta ripina di carne che sembrava un ombelico, ecco. l'Osteria Corona l'ha esistita, non è che... E l'ha aperta? No, adesso... l'ultima l'Osteria Corona l'era... quelli fanno via sborda nè, fuori a castello. Adesso c'è un bar che una volta che era... una vecchia caca un po' l'Osteria Corona l'era... che... 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 fuori vestita da un camion per cui ha fatto la canova ma l'Osteria Corona l'era... via sborda. Noi. però insomma... e... ecco al pen si vuol dire, al pen. Eh, al pen. E il crudo o cotto? Beh, dipende la famiglia. E dipende la famiglia. D'usanza la famiglia. La famiglia? E' un di monere. Monere, perché... come l'è, l'è... in castello di famiglia l'è... eh... al bisnon, al trisnon... eh... tu... al bisnon lì... l'era monere... e... e... questo tipo... da più... e hanno fatto monere perché... un po' dopo lo prende fuori senza perdere quelle lettere. Però... Roberto ha il bisnon... ha fatto monere... mio padre l'ha fatto monere... mi ha fatto monere... avevo già da monere... va a me... ha venut mai a mezzo un po' perché... fin del 43è... io ho visto dentro un mole... era una bella vita... però... perché era... un contatto con... con... con gli anni che gli ho da mes nello... e gli era... es formava come... come un amicetto di approfì... con i clienti... e... gli avevano... con... con... il... con un carro che andavano o... con un muolo... con un sumare... gli scorgavano... gli scorgavano... il fourmento... che gli dovevano ma snero... dentro del saper po' che aveva la paese... la... 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 la basquale... e avevano un po' di più nervi che avevano un po' di più nervi e l'era il molino prendeva l'acqua e aveva anche il motore che supportava il motore elettrico. Dal canel l'acqua in era? Si, si, ma ho il canel che dopo andava a San Juan. Però sia il mulinato che il mulino e il chauver, a me non mai sapò se salga un nome di mulino. A differenza dal tegel che gira la ruota, in cui il mulino era la turbina, cioè il canel che arriva al monte, dal mulino, l'era più alta dal canel a valle. E il mulino era una... era il mese proprio, era una stanza con la turbina. Cioè l'acqua la caschava in questi ambienti, la turbina era una cosa tanta con tanti palazzi e la fava andare con l'inerzia dell'acqua, la fava andare con la turbina. Ah si, che era orizzontale? Orizzontale. La ruota era verticale e l'era esterna dal mulino. La turbina era assata dal mulino, dentro del mulino. al canel arriva da Sauver, al passello è stato dal mulino ed andava fuori da slettrapea, almeno con 10 livelli, almeno 3 metri. Quanto gira l'acqua, il mulino è venuto fuori, proprio la gira è spenta dalla pea davanti. L'acqua c'era? L'acqua c'era veramente, perché non c'era il più peso, con quello che era l'osso. C'era pensare che adesso, per... non c'era più quello che... non c'era l'acqua, non c'era l'acqua, non c'era l'acqua, non c'era l'acqua. E poi c'era un... c'era un strumento che... non c'era l'acqua, non c'era l'acqua, non c'era l'acqua, c'era una specie di trovola, c'era un tubo, non l'avamo mai vestito da Sve, perché c'era l'acqua del canel, lì era un tubo che il Fernandere, insomma, lì era grande, bisogno di un diametro, 30-40 cm, andava in l'acqua. E poi c'era l'acqua, e c'era una specie di... una cosa elicoidale, che tirava sull'acqua, hai capito? Una specie di pompa, e vedeva in queste pezze il canel, non c'era la vidella o anche la prima, non so quando prima, e anche la calianguella. Da maniera poi, la vidella è nadella? Da maniera, la vidella è nadella. Da maniera, la vidella è nadella. a partire da San Duan, cioè, altri non hanno visto i nonni, non è San Duan. Perché leggo in tempo un'era, non c'era in breve, perché, non c'era il pezzo, ma mi hanno detto che il pezzo è farmacista, cioè, non c'era un aiuto, non c'era niente. che si andava a finire in montagna. Giovanni a Givalè, al mule in Damola, gli faccio il guerri, e gli uccumano in Lea, e gli uccano in Piazza, tranne il Prem, la Nataona, la Genova, che non è da Sant'Egretta. E tranne di Roberto, che avevano il nome, che non è da Riol. Allora, io andavo a Amola, a Castlate Ceravalle, in Val Samoglia, insomma, che non è da 1994. Franco, mi manderei con GILF, andiamo a fare il bagno in Panaro. Andiamo a fare il bagno in Panera. E il Panaro è bello? Come si dice? Panera le belle. Le belle? Prisa le bella? No, le belle. Mi dici l'osteria? L'osteria. La malattia? La malattia. Il calendario? All'uneri. Dritto, va dritto. Va dritto. È quello di prima? Il quale è prima? Il filo? Il filo. È brutto? È brutto. Lo zucchero? È zucchero. L'uva? L'uva. È secco? Le sacche. Il cassetto? Al cassatt. I cassetti? I cassetti. I cassetti. La seta? La saida? La saida. La neve? La naiv? La? La naiv. Il vetro? Al vajder. I vetri? I vider. Il fratello? Al fradel. I fratelli? I fratelli? Il mezzo? Il mezzo? Il mezzo? La pelle? La pelle? La pelle? La pelle? La pelle. Scusate, no. Sì, sì. Un po' le mostriamo, è un po'. È un pezzo, eh? E si sprendesse tutto così. La pecora? La pigra? La fiera? La fiera? La fiera? Il miele? La fiera di stanza. Il miele? Il miele? Il miele? La febbre? La fibra? È rotto? Le ratz. Le? Ratz. Le è rotto? Rotto, sì. Le ratz. Le ratz. Mi si è rotta la macchina. Ah, si è rotta la macchina. Sono rotti. Viene rotta. Di sotto. Satta. La volpe. La volpe. Le croci. Al kraus. Il fiore. Al fior. I fiori. È cotto. Le cotte. Sono cotti. È incotto. Un cassotto. Un cassotto. Un cassotto. Un cassotto. Ha preso dei gran cassotti. La ciappella di gran cassotto. Mi fa male le ginocchia. Un po' male di snorch. Il castello. Noi di cappella. Uno ne ha preso delle smartassze, anche la mancalchia maschide. e i ranucci. Invece il castello? I fossi, i occhi e i ranucci. E i encut? Anche a Manzulego. Si. Perché ha detto encut? Perché a San Zvane e Taivra già è encut. Ah, ma la soglia prima. Il piede? Il pa. I piedi? Il bue? Il bue? Il bue? Il bue? Il bue? Il bue? Il setaccio? La settimana? La settimana? E la campana? Ecco, a Manzulego è già in la campana. E il castello? Frendere la campana in quel don. Bologna? Vergogna? Bisogno. Ho bisogno. Ne ho bisogno. Ho bisogno, ecco. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non è natura a dirne quello. Lui viene? Lo alzè. La chiave? La ceva. Il chiodo? Al ciò. A me così finiva. La mela. La mela. Non c'era la mela. Il gatto? Al gatt. I gatti? I gatti. I gatti? La gatta? La gatta. Le gatte? Al gatti. La donna? La donna. Le donne? Al don. Io lavo? Me alèv. Voi cantate. Noi cantiamo. Cosa cantiamo? Cosa cantano? Andiamo? Apre dire anche c'è cantano. È naturale dire c'è cantano. Però capisco che la più logica è dire c'è cantano. Giusto. Cosa cantano? Cosa cantano? Cosa cantano? Cosa cantano le donne? Cosa cantano le donne? Cosa cantano sempre. Cosa cantano sempre. E poi non lo so fare. Non lo so mai fare. Non lo so mai fare. Ma è preciso. O per dire anche che non so mai fare. Proprio che sì. Si che. Non so mai fare, si dice anche lei. Ma forse lei è di formazione mia. No, no. Si calma e si dice lei. Il dente. I denti. Il mulino. Il mulè. Il padrone. I padroni. Il padroni. La padrona. La padrona. Le padrone. Al padroni. La farina. La farina. La farina. Farina. Le... La gallina. La gallina. La fortuna. La fortuna. La luna. La luna. La luna. Noi parliamo. Un marito. Un marito l'ho avuto. Un marito l'ho avuto. Ma avevo una moglie. Una moglie l'ho avuta. Una moglie l'ho avuta. Il tempo è finito. Al tempo è finito. La giornata è finita. Al... la giornata. La giornata. La giornata è finita. O al delle fine. Lei è disperata. Lile... Lile dis... Lile dis... Oh... Lile disperata. Lile disperata. Lile disperata, sì. Lui vedeva... L'ho avvenuto. E... Mangiare. Mangiere. Giocare. Duguer. L'invidia. l'invedia il fastidio io ho un gran fastidio un gran fastidio la radio la radio mi conti fino a venti un conto è fina bene ah un due tre quattro cinque sei sei tot nof dis onci dacce tracce quattorci quincce sace darsed vlog znov e vento che nabia stasera int la fossa le fratte alla senti integliosa aiola stufisia intel brazza in gaula un vent sola ganossa pian pian da vent fora dal bur la segma dal vecch lavadur con nanzi toti il fnester dal sgdel e ascenta includa or dal canel ma per quegi c'è interciamer che il doni andria a ferla a bughe e in mezza una stagia e l'insù insomma questo è verità insomma da riuolo e non ho quelle che vede ecco 1894 piegno ariolo a Mario Hall, nel 1913 io andavo sull'em, nel Morinato, e io vieno a stare, che è un amico, che è un amico, che è un amico. Grazie a tutti.